Scusatemi, 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 ma ci vuole come c'è? Ho inaugurato un'ifra, non so' tu! Ho inaugurato un'ifra, non so' tu! Ah, stiamo andando, stiamo! Stiamo facendo un colpito! Chiedi da fare la telefonata! Mi ha già dire a lui un lago, un lago, ma che è la massa? L'hanno a Cidre, 62, 22, 22, 22... Nove! Papa! Come seri qua? Tre! Due! Quella è la faccia dove è? Chiedi! Chiedi! Perfetto, mettere gli altri! Il mio belmasore! Che cosa d'altro? Che cosa d'un'acqua? Vieni, vieni, scusate. No, 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 no. E parliamo, sforzo, sforzo. Grazie. Sono venuto a copilare, ti amo. Io non bello, è normale. Sì, è stata una successora. Sì, è stata posta. Sì, è stata posta. Eh, no, no, no. Solo che papà è stato l'unica persona che mi avrei voluto avere vicino nella mia vita. Che sono qua? L'ho cercato. L'ho cercato in tutti gli uomini che io ho amato. No, no, no. Non ha mai abusato di me. Non è stato un padre disamorato con il suo figlio. Mi amavo, ma diciamo così, a modo suo cuore. Con un padre? Con un padre, certo. Perché è stato possibile, abbiamo dovuto finire insieme. Mi piaceva stare sotto di lui, sentire il patto del suo cuore e le gambe sue calde che mi accolgevano. No, no, no. Non ci è mai stata niente. Ero io, ero io, ero io, ero io che lo desideravo, che l'ho provocato. Tu! Eh, sì. Ah, qua. Ah, metto quel cazzo. Guarda l'uomo qua. Ma che c'è il cuore? Un giorno. Un giorno mi hai allontanato per sempre. Ma mai ero morto da poco. Io avrei voluto consolarmi, in quel periodo era così fragile. e così una notte... l'ho lasciato in buco. Uuuuh! E ho provato a fargli dono del mio porco! Uuuuh! Ma sì, ma... Ma sì, ma... Ma sempre stavate! Ma sempre stavate! Ma sì, ma... Ma sì, ma... 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 Ma che stai facendo? Ma... 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 lasciandomi nel tormento dell'anarmi e da quel momento non abbiamo più del niente insomma 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 5 4 Ma io, l'acqua, ti faccio la mia vista. E se, Taranti, hai fatto la donna e faccio vingiù. Ma non, eh. Ora dopo, ora dopo, non lo prende. Ti mando a casa l'operato, ti mando a fare questo, allora. Eh, Taranti, quando tu fossi stato, ti avessi vingiù. Dopo quello che hai mai detto, un marocchino nel giù antico a me. Ah, sì. E se avessi vinto qui? Ma eh, come no? Ma bene. E non vuoi vingiù. E fammi sentire, io! È tipo move, eh. Un bello camminato qui, non mi voglio chiudere è facile ma il primo non vi voglio per chiudere eh, il secondo è un abbraccio per tutto voi il secondo è un abbraccio per tutto voi l'ascine è una famiglia Grazie. 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 Grazie.